Era tutto delizioso, sapete, passo spesso qui davanti, ma non c'ero mai entrato, non è buffo Anche io e Nicole ci siamo capitati per caso, avevamo prenotato da un'altra parte, ma lì non abbiamo... È vero, è vero carati Non c'era il tavolo per noi e siamo venuti qui e ce ne siamo innamorati All'istante Capisco il perché, quell'alibut era di certo il più buono che avessi mai mangiato in vita mia Meno male che ti ho convinso a non prendere la carne Sì, grazie mille Oh, lascia, 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 per favore ci penso io No, 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 aspetta me No, 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 neanche per sogno faccio io No, 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 Peter, qui non accettano i tuoi soldi Ho scelto piatti costosi, mi sembra brutto farvi pagare Abbiamo invitato noi e pagheremo noi Ti molla questo cacchio di conto? Mollalo tu il conto No, io non mollo un bel niente, hai capito? Eh, nemmeno io Togli subito le mani dal conto Tesoro, se vuole pagare Che pagallina? Non usare quel tono con mia moglie Ma sì, perché sennò che fai? Non usare quel tono con mia moglie Scusami E tutte le altre scuole che abbiamo provato non sembrano adatte al nostro figlio Beh, ci sarebbe ancora una possibilità